Lunedì 7 ottobre 2024 alle 18 in punto, in diretta su questo canale, cambierà tutto. Ebbene sì, non vi voglio tenere troppo sulle spine, sta per accadere qualcosa che mi chiedete da sempre. Vi mostrerò l'intero metodo di studio, l'intero PAKRAR in diretta, con un caso studio che toccherà diverse materie, sia tecniche che descrittive, sia scientifiche che umanistiche, e vi spiegherà tutti i passaggi in modo diretto, completo e sintetico. Applicheremo insieme la lettura efficace, individueremo le parole chiave, schematizzeremo, sfrutteremo il testing, le flashcards, le tecniche di memoria, i ripassi programmati, tutto quello che vi serve per fare un notevole salto di qualità nel vostro metodo di studio. Farò chiarezza su tutti i dubbi che potete avere quando si parla di questo argomento. Anche il tempismo è perfetto, sarà appena ripartito l'anno accademico e questo è il modo migliore in assoluto per iniziare l'università e la scuola alla grande, con le idee chiare e gli strumenti giusti per spaccare fin da subito. Preparate i fogli per gli appunti. Dopo il caso studio, ovviamente voi avrete modo di bombardarmi di domande con il nostro solito Q&A e io farò un annuncio speciale, qualcosa che personalmente aspetto da più di tre anni e che vi devo dire la verità, mi emoziona parecchio e non lo dico solo per fare hype, credetemi. Niente spoiler, niente spoiler, ma no, non è uno sconto sui videocorsi, non è un nuovo videocorso, non è il remake di un vecchio videocorso, non c'entra proprio niente con i videocorsi, a dire la verità, vedrete. In tutto la live durerà un'oretta e mezza o un paio d'ore, a seconda di quante domande mi farete. Ho fissato l'evento alle 18, alle 6 di sera, di lunedì 7 ottobre, lo ripeto un'altra volta che non voglio vi confondiate, così che più persone possibile possano vederlo, dopo la scuola, dopo le lezioni, dopo il lavoro. Ma se per qualsiasi motivo non riuscirete ad essere puntuali, nessun problema, non vi preoccupate, perché il video rimarrà disponibile fino alla mezzanotte, sempre di lunedì 7 ottobre. Quindi se finiamo presa poco per le 20, avete altre 4 ore per recuperarlo, da mezzanotte e un minuto però non sarà più disponibile sui social. Ve lo ripeto, da mezzanotte e un minuto, allo scoccare di martedì 8 insomma, la live sparirà da tutti i canali social. Questa è un'occasione che rimarrà unica e irripetibile. Al massimo faremo qualche estratto da mettere poi come short nelle settimane seguenti, ma per assorbire tutto dovete vedere in diretta o nelle ore subito successive. Mi raccomando, ne vale la pena. Quindi segnatevelo nel calendario, attivate la campanella sul canale per non perdervi la notifica, mettetevi un post-it in camera, una sveglia sul cellulare, lunedì 7 ottobre 2024 alle 18. Io vi prometto che sarà qualcosa che vorrete vedere. Ci vediamo presto.